partiamo con un data layer vuoto ad ogni momento ad ogni evento relativo all'e-commerce avanzato noi riempiamo o meglio noi il plugin riempie con un push questo array javascript data layer che inizialmente era vuoto quindi questa è la versione di universal come vedete alle iniziali del nostro plugin gtm4wp quindi se vedete una cosa del genere sappiate che è lo strumento l'e-commerce in questo caso sta utilizzando gtm4wp per ga4 invece è cambiata completamente la struttura quindi data layer.push evento ga4 ha una naming convention fissa e questo secondo me è un vantaggio grandissimo perché chiunque in quest'aula mette mano su un sito sa che la struttura è questa e non si può cambiare non si scappa da questo tutte le parole minuscole lo snake case in mezzo per chiaramente identificare uno spazio e poi l'oggetto e-commerce all'interno del quale ci sono informazioni generiche la currency dello shop il value totale al netto degli sconti di cosa del prodotto in questo caso io ho fatto un'aggiunta al carrello di un prodotto che in totale vale 18 al netto degli sconti 18 us dollars items è un array javascript che in questo caso contiene le informazioni di un solo prodotto il bini con identificativo 17 questi sono i prodotti standard di e-commerce quando si ne fornisce diciamo dei prodotti come posso dire finti fake giusto per farti provare no ma l'items può essere popolato da molti molti prodotti pensiamo all'istato dei prodotti arrivano fino a 15 20 prodotti all'interno di un unico push chiaramente lì ci sono i limiti del push di leggibilità eccetera eccetera quindi andiamo avanti come si imposta in tag manager abbiamo visto la logica abbiamo visto come si popola il data layer quindi abbiamo visto la prima fase con il plugin poi abbiamo visto il push del data layer come facciamo noi a passare queste informazioni qui dal data layer a gtm e come fa gtm a passarle ai vari strumenti passiamo parliamo oggi dello dell'unico strumento di cui ci interessa oggi e g a4 fondamentalmente google tag manager si compone di tre elementi fondamentali io ne parlerò di due in questo caso perché ci interessano solo due i tag e i trigger il trigger è questo qui questa parte qui il trigger è quel tradotto letteralmente dall'inglese è proprio quella quel click diciamo che fa partire l'evento quindi il comando generico che noi daremo grazie a tag manager sarà sparami un evento di tipo g a4 con la mia chiaramente configurazione g a4 il nome dell'evento sarà ad to cart ok ma quando lo devo sparare io questo evento solo ed esclusivamente quando abbiamo un evento ad to cart di tipo custom javascript eccolo qua perché custom javascript perché chiaramente stiamo parlando e facciamo riferimento al push del data layer che è un array javascript quindi riassumendo voglio vedere in g a4 un add to cart solo ed esclusivamente quando viene sparato l'add to cart all'interno del data layer diversamente non avverrà nulla perché altrimenti i dati all'interno dell'e commerce all'interno delle nostre dei nostri strumenti come g a4 sballano e quindi abbiamo dati incorretti dati sbagliati e prendiamo decisioni sbagliate andando avanti vi ho lasciato qui una lista di eventi per farvi vedere la differenza tra universal analytics e g a4 ma perché ve l'ho lasciata semplicemente perché qui avete tutte le guide e per i più curiosi che si vogliono cimentare si si vede un po po strano un po piccolo però avete le slide quindi ve lo lasciate principalmente per il link alle documentazioni ufficiali così avete un riferimento ufficiale e non per forza solo il mio riferimento ecco vediamo nello specifico g a4 come vi dicevo gli eventi sono tanti sono bellissimi secondo me perché sono molto flessibili visualizzazione lista dei prodotti view item list clic su un solo prodotto select item visualizzazione di una promo view promotion e via così dicendo quelli che ci interessano secondo me di più sono gli ultimi due quattro cinque sì diciamo cinque barra se una cosa del genere e soprattutto il primo la visualizzazione del listato di prodotti e il click del prodotto cioè tra tutti le visualizzazioni delle promo e diciamo l'ultima cosa che andrei a pensare su cui mi andrei a fissare inizia inizialmente io farei vi consiglio di concentrarvi di più sulle basi cioè visualizzazione di listati click visualizzazione di schede prodotto eccetera eccetera soprattutto il gol finale il purchase ok oltre a questi questi sono gli eventi consigliati oltre a questi g a4 è uno strumento potentissimo perché in grado di essere flessibile e di essere aderente alle necessità e alla struttura dell'e-commerce cosa vuol dire vuol dire che oltre agli eventi consigliati abbiamo gli eventi custom ok qui voi potete sbizzarrirvi grazie agli eventi custom potete inventare voi il nome dell'evento rispettando questa naming convention ok quindi se io ho un ecco è arrivato sono passati 20 quindi se io ho un evento custom che voglio definire perché no lo posso fare se io ho un e-commerce custom come vi dicevo prima perché no posso farlo la potenza dello strumento ad oggi l'evoluzione dagli universi alla g a4 viene segnata grazie a questi eventi custom e vi assicuro che li uso tutti i giorni e sono veramente bellissimi mi sembra di autocompiacermi ma è così un po di dati ad oggi i siti che utilizzano meglio gli e-commerce che utilizzano in generale g a4 quindi tutti gli e-commerce shopify book commerce qualunque cosa sono solo il 17 per cento capite le possibilità che mercato c'è ancora su queste implementazioni è una cosa spaventosa a mio modo di vedere e e io sono pieno di lavoro adesso e veramente non riesco a girarmi da una parte o dall'altra per respirare però c'è veramente tanto tanto mercato e la domanda non è ancora così consapevole ok il momento della consapevolezza della domanda arriverà a marzo finalmente secondo me marzo barra aprile quando questo signore qua finalmente si siederà a tavolo spinto da tutte le grandi case di produzione robe del genere google facebook meta qualunque altra cosa mail cimp active campaign qualunque strumento con sede e che fa riferimento alla legge americana stanno spingendo questo signore qua a firmare un cavolo di trattato finalmente per regolare regolarizzare e dare una regola specifica riconosciuta sul trasferimento dei dati dalle dall'unione europea alla all'unione all'unione agli stati uniti d'america per farvi capire il motivo che sono sempre questi google sta costruendo database data center in europa quindi sta portando risorse in europa non in irlanda dove è europa virgolette ok quindi la motivazione è solo politico economica non c'è nient'altro la privacy è importante ma come dicevo ieri sera anche a tavola seduto io penso che sia altrettanto importante essere consapevoli e responsabili del trattamento del dato e io devo ringraziare alcune pubblicità facebook youtube google se ho scoperto determinati strumenti determinate academy determinati servizi prodotti ai quali che mi hanno risolto dei problemi che mi hanno portato a un livello più alto di formazione e che prima non conoscevo quindi questa è la mia ultima slide vi chiedo se ci sono domande se vi è interessato lo speech e spero sia così grazie 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 grazie